Un saluto a tutte le amiche di Makeup World. In questo video tutorial useremo alcuni smati della collezione Fabio Music per la primavera del 2015. Con questo rosa fucsia vado a stendere un'abbondante passata di prodotto su tutte le unghie. Decido di non fare una seconda passata di prodotto perché, come potete vedere, questo colore è coprente anche con una sola passata. Con questo giallo andrò a disegnare i petali del girasole in modo molto semplice. Appoggio il pennello e tiro. È così per tutti i petali. Quando il pennello non sarà più carico di colore, prima di andare a riprendere il colore, continuerò comunque a disegnare altri due o tre petali in modo che sembreranno così più sottili. Con questo arancione disegnerò altri petali con la stessa tecnica, giusto per dare un po' di profondità alla nail art. Con un marrone vado a disegnare, diciamo, il cuore del girasole. Lo disegno picchiettando con il pennellino in modo da ricreare la sua reale ruvidità. Per dare maggiore tridimensionalità al girasole, vado a disegnare altri petali gialli. Questo è il risultato finale, un risultato molto semplice. Spero che il video vi sia piaciuto. Un baciotto a tutte e un buon inizio di primavera!